Conoscere le mafie per contrastarle e poi, lo ripeto, consiglio al principe per le caratteristiche che deve avere il lupo e la colpe, liberarsi dai lacci, il secondo, mi scolato le acque perché abbiamo voluto parlare della violenza, è violento ma invece non è vero, invece attribuendo le virtù dell'opposizione rappresenta e io parto cercando un po' anche l'ultima puntata di questo ciclo di seminario, come vedete sono il magistrato Raffaele Cantone, il ministro Rosario Campagnolo, il giuro, il camadrasco, siamo con Raffaele Cantone, Rosario Campagnolo. Felice il paese che non ha bisogno di eroi e abbiamo illustrato in pratica tutte le vittime della nofra. Chi non ha paura ancora un giorno, chi non ha paura come una sola volta, abbiamo una presenza in un mondo senza violenza, mi chiedo se ci riesci, immagina la fratellanza tra gli uomini, immagina la fratellanza tra gli uomini, su questo tu sono la fratisca, tu sei sempre stato il mio giusto, il più stanto dell'attività, l'attività, l'attività, il giusto, non è una pregorezza in termini di organizzazione di un milano, non deve essere iniziato, non è un po' di come di chiesa, però i beni con i quali noi ci rifacciamo tutti giorni, al, d'assimo, non è un tempo, a cerco come ne lavora se lo non ci sono. Con lui ci sono tantissimi ragazzi, un ringraziamento è un giro soprattutto all'ordine. Come pare alle scuole, in tempi, ma è difficilissimo andare. Perché l'informazione è l'elemento fondamentale per conoscere che cosa sono le navi, finché E' un magistrato, Isacco Remarco, quindi una nazione, è il magistrato, ma l'altro un piero che è mentalmente deviato, lo che è essere, che spesso si comporta in modo agnostico. Quarant'anni di lotta alla mafia, della dieta sacravolosa, mi ritrovai in una situazione, sono stato a dirige della squadra mobile negli anni Ottanta, anni delicatissimi, difficilissimi.